ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale stilograficamente il canale dove la mente si rivolge al bello ed oggi il bello che abbiamo davanti prende le volute di questa bellissima visconti opera master limited edition polinesia devo innanzitutto ringraziare gli amici del buy pay shop per avermela inizialmente prestata in realtà la tentazione è stata troppo forte e a questo giro ho ceduto va bene parleremo di una breve disamina storica e anedottica di questa penna parleremo delle parti che la compongono prenderemo in esame il pennino come si comporta in una prova di scrittura scriverò una pagellina con gli aspetti essenziali con cui sono solito prendere in esame le penne stilografiche e vi lascerò con alcuni punti di miglioramento possibile finali su questo esemplare su questo bellissimo esemplare beh quello che possiamo dire che partendo diciamo dalla storia dell'anedottica la storia è piuttosto recente perché questa penna è uscita a luglio 2020 così mi ricordo di aver letto in giro è ispirata logicamente dalle isole del pacifico della polinesia da polis tante nesos isole in greco ed è la prima collezione del 2020 a montare il pennino in house visconti a 18 carati ora naturalmente come aneddoto che cosa posso dirvi che questa penna mi ha colpito talmente tanto che alla fine ho deciso di acquistarla mi è piaciuta tantissimo la per tutta una serie di ragioni in realtà non solo per la rivrea quindi parliamo adesso delle parti che compongono questa penna allora sommità del cappuccio logo visconti my pen system per cui si può rimuovere il logo con un magnete lo potete sostituire con le iniziali del vostro nome con un segno zodiacale o con una pietra semipreziosa poi proseguiamo con la clip che fa veramente il suo dovere ed è molto pratica da utilizzare tipica di visconti per cui una clip che ricalca ponte vecchio a firenze materiale del cappuccio e del fusto in acrilico traslucido per cui potete guardare attraverso è una semi demonstrator praticamente è una demonstrator se ben colorata comunque ci vedete attraverso sia il cappuccio sia il la sezione in questo esemplare e parte del del pennino in altri sia il livello di inchiostro lo potete osservare benissimo la veretta del cappuccio a il logo visconti non ha più la scritta opera che c'era un tempo il fondello è una diciamo un fondello metallico che non è nient'altro che la parte finale del pistone quella che si svita perché questa penna è a vacuum filler brevetto visconti che sta per caricamento a siringa rovesciata non solo vacuum filler ma anche double reservoir doppia riserva ci torniamo più avanti finiamo di prendere in esame la parte esterna di questa penna praticamente vediamo un ottagono quindi un quadrato oppure un quadrato con gli angoli smussati e la quadratura del cerchio che tanto ha reso questa linea famosa in casa visconti per cui segno di perfezione di elevazione quadratura del cerchio vuol dire comunque ricondurre la perfezione l'assoluta la materialità diciamo alla squadratura il quadrato è fatto di angoli retti quindi rang angoli giusti ecco se così possiamo dire le finiture sono in metallo rivestito in palladio cos'altro possiamo dire del cappuccio il cappuccio ha un contro cappuccio interno che impedisce l'essiccarsi dell'inchiostro del pennino la cosa notevole che ho notato è che c'è questa piccola molla che quando andate a inserire il cappuccio è a innesto a baionetta quindi look and safe lock berevetto visconti per cui con un sesto di rotazione già potete svitare il vostro cappuccio lo potete fare anche con una mano sola comunque la cosa che ho notato di interessante guardate la molla cosa fa si muove si muove accompagna diciamo il proprio il alza leggermente si alza leggermente il contro cappuccio questo vi sta a indicare in una maniera del tutto simile l'ho visto in nelle platinum della serie 3776 century ne parleremo più avanti prossimamente su questi schermi comunque anche in quella serie c'è un meccanismo simile che è lì diciamo il pennino non secca per ben due anni qui non ci ho provato non l'ho testato quindi sinceramente non posso dirvi però credo che ci sia un'ottima tenuta ecco questo lo posso dire ok bando alle ciance abbiamo parlato già del hook and safe lock rivela diciamo una una penna che così senza cappuccio si vede notoriamente che la digressione da questo punto dove si rompe il vuoto del vacuum filler perché il vacuum filler come funziona è uno stantuffo che voi indietreggiate svitando il fondello si svita si estrae come se fosse una siringa lo stantuffo indietreggia in una camera più piccola del fusto dopo quando lo riabbassate inserendo la penna nella nell'inchiostro nel vostro calamaio riabbassando lo stantuffo si crea un vuoto dietro di sé che si rompe solo più o meno in questo punto dove la penna si allarga per cui viene rilasciato il vuoto si rompe proprio il vuoto e avviene un risucchio diceva maestro eckhart che la natura ha orrore del vuoto ed è così infatti cerca subito di colmarlo risucchiando l'intiostro dalla dal calamaio come potete notare c'è anche il numero di serie della penna perché come dicevo prima è un'edizione limitata in particolare ha 888 esemplari e questo qui è l'esemplare numerato 518 cos'altro posso dire sezione in metallo con svasatura finale che vi impedisce di finire accidentalmente sull'alimentatore o sul pennino sporcandovi le dita perlomeno siete avvisati non lo trovo per niente scivoloso lo trovo molto comodo anche diciamo le scanalature dell'innesto hook and safe sono decisamente toccabili cioè potete metterci le dita sopra senza avere grande sofferenza l'alimentatore è fatto in plastica e ha il logo visconti faccio un piccolo zoom per farvi apprezzare il decoro del nuovo pennino questo è il nuovo pennino in house di casa visconti come potete osservare c'è la scritta visconti il logo il giglio di firenze la mezzaluna nel foro di sfiato queste sono caratteristiche che guardano un po al passato cioè è in continuità con quello che sono stati i pennini che l'hanno preceduto poi c'è la scritta 18 carati kt 18 kt 7 5 0 e la gradazione del pennino in questo caso un m ok direi che come parti della penna dovremmo aver visto tutto a questo punto non ci resta che esaminare il suo comportamento su carta ok allora come continuità di flusso qualche lieve lievissima incertezza cioè vedo che smagrisce un po in alcuni punti come alimentazione a parte questa falsa partenza iniziale che era dovuto al fatto che lasciavo il pennino scoperto da un po devo dire che la penna si comporta piuttosto piuttosto bene vediamo la copiosità di flusso è un flusso piuttosto secco e devo dire la verità non è particolarmente abbondante per lo meno per come il pennino e viene fornito in house ok vediamo un po la variazione di tratto qui quasi senza peso qui con il solo peso qui con un poco di pressione qui al massimo che riesco a fornire quindi come potete vedere da qui a qui un poco di variazione di tratto cioè cioè se io sfrutto solo il peso della penna e poi ridiscendo con un minimo di pressione sfrutto il peso ridiscendo con un po di pressione come potete notare c'è quella variazione di tratto che spesso ci si attende da una stilografica un minimo un minimo incline alla variazione di tratto pagellina scrivo tutto come sempre commentiamo dopo ok allora il flusso le ho dato un 8 su 10 perché personalmente tolgo due punti perché preferisco dei flussi un po più abbondanti come si ottengono i flussi in più abbondanti allora o separate i rebbi del pennino con le dita o schiacciate leggermente mettete un foglio molto sottile di di ottone piuttosto che una pellicola di vecchia macchina fotografica mantenete diciamo per un po di tempo poi riaprite il pennino e togliete il foglio in modo tale da non grattare all'interno del dei rebbi del pennino li tenete ben divaricati quando fate le operazioni di immissione e di espulsione del foglio sottile metallico oppure diciamo c'è chi fa anche questo sette volte fa questo questa pressione massima in maniera tale da ottenere lo vediamo proviamo a vedere se sono riuscito a ottenerlo un flusso decisamente più abbondante guardate qua questo è un tutorial nascosto in una recensione di stilo grafica va bene questo devo ringraziare dag poi vi lascerò il link al suo canale in descrizione perché non è una trovata mia è un canale estero devo dire che seguo con passione molto volentieri e quindi è giusto dare a doug quello che è di doug poi dicevo quindi il feedback il flusso è risalito di colpo da 8 10 a questo punto gli posso dare un 10 e guardiamo un po con la continuità di flusso penna chiusa guardate quanto è migliorata la continuità di flusso molto molto più costante di prima più abbondante non fa più una grinza mentre invece qui vedete com'era in alcuni punti smagriva in altri era un po più spesso insomma non era costante questo è indice del fatto che il pennino in house è di buona qualità ma i rebbi sono un po troppo serrati in punta e quindi bisogna fare questa operazione molto semplice la potete fare anche voi state attenti a non eccedere nel tratto vi ho fatto vedere dal vivo come si fa allora l'impugnabilità il feedback 10 su 10 i penini nuovi visconti non è il primo che testo ho testato ho avuto il piacere di provare la visconti homo sapiens lava color ash white anche quello aveva un feedback eccezionale pieno controllo di scrittura comunque scorrevole quindi il massimo che si può ottenere con un immeister che fa un controllo qualità pennino per pennino come penso stia facendo vi sconti l'impugnabilità per me è un 10 su 10 perché potete impugnarla qui potete impugnarla qui potete impugnarla fin qui potete forse anche calzare il cappuccio si potete il problema è che già il power filler ha un peso un po spostato all'indietro perché il meccanismo in ottone è concentrato per filettatura soprattutto qui se ci aggiungete anche il peso del cappuccio rischiate che sia un pelino troppo all'indietro però l'impugnabilità per me si è un 10 su 10 comunque perché è impugnabilissima bilanciamento 7 su 10 qui tolgo i tre punti proprio per il back weight il peso all'indietro i materiali allora i materiali per me sono 9 su 10 tolgo solo un punto perché si tratta di acrilico però però anche anche qui vogliamo esaminare questo acrilico da vicino signori io non so se vi è mai capitato di guardare alle piantine satellitari eccetera le mappe viste dall'alto qui si vede tutta la bellezza del mare e delle delle terre emerse diciamo delle isole della polinesia ed è meravigliosa a me questa penna ricorda quanto sono piccolo in questo mondo in questo addirittura universo se assumo un punto di vista diverso e avere uno strumento di scrittura che ti ricorda questo forse forse non guasta però vabbè questa è una mia piccola elucubrazione quindi 9 su 10 perché avete le rifiniture in metallo rivestite in palladio durano di più il qualcuno esulta di là scusate il meccanismo interno è realizzato in ottone inossidabile per cui anche questo diciamo offre resistenza al passare del tempo il rapporto qualità prezzo devo per forza togliere un punto e mezzo perché perché parliamo di 920 euro di penna sul mercato io mi rendo conto che è una edizione limitata fatta in 888 esemplari un pennino in oro il caricamento vacuum filler però 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 costa l'acrilico è anche molto bello però costa torno a dire che costa e infatti gli aspetti positivi ve li ho elencati nuovo pennino in house 18 carati finitura in palladio vacuum filler in ottone double reservoir non l'ho detto caspita c'è una valvola di chiusura qui se voi svitate il fondello affluisce l'inchiostro dalla camera interna alla doppia camera alla seconda camera se voi chiudete qui andate a esaurimento della seconda camera della sezione e dell'alimentatore e poi una volta esauriti potete anche affrontare un viaggio d'aereo saranno certi che non ci saranno fuoriuscite d'inchiostro all'interno del cappuccio a fronte delle variazioni di pressione durante il volo quindi voglio dire anche il double reservoir è sicuramente una una bella chicca aspetti meno positivi il prezzo sicuramente alto 920 euro sono veramente tante per una penna in acrilico anche se mostra diciamo tutta la sua bellezza tutte le sue prestazioni soprattutto se trattata come vi ho fatto vedere per avere un flusso maggiore è un po c'è un po di peso all'indietro ad alcuni può non piacere l'alimentatore in plastica crea problemi di flusso no sono è proprio un problema di pennino con i rebi troppo serrati in punta per il resto l'alimentatore assolutamente segue le vostre le vostre il deserto non so perché mi è venuto il deserto quando qui si parla di isole comunque va bene segue le vostre volute anche quelle più capricciose la scrittura un po più rapida un po la segue quindi pur essendo in plastica ok mettiamo la paragone però con altre penne per avere delle dimensioni di riferimento allora ne ho preso una gran quantità cominciamo dalle più comuni senza che si menino tra di loro ho preso una pilot metropolitan la versione mr1 quella col plain black qui che non ha chissà quali strane fantasie ho preso una lami safari dell'anno scorso edizione dell'anno scorso ho preso una lami 2000 che metto vicino alla sua sorellina più più sportiva diciamo più scolastica un paragone ancora più sensato secondo me lo abbiamo con la visconti opera la piccolina di casa visconti e una visconti homo sapiens bronze age come potete vedere le dimensioni di questa penna che già questa è un oversize a maggior ragione l'opera master decisamente la supera ok parliamo di una penna veramente veramente grande benissimo abbiamo fatto una carrellata direi piuttosto completa cosa rimane gli spunti per i quali questa penna potrebbe essere migliorata allora poche cose in realtà questa è veramente una sciocchezza guardate che leggermente leggermente spostato lo stantuffo e l'ho notato non solo in questo esemplare ma anche in altri in commercio che ho avuto la fortuna di esaminare c'è una lieve lievissima imperfezione diciamo di inclinazione poi e quella si potrebbe diciamo aggiustare per i prossimi esemplari il power filler il power filler a differenza di altre penne una diciamo che monta questo meccanismo non si può svitare purtroppo per le opere di manutenzione se volete appunto manutenere questa penna non potete ecco avevo dimenticato di valutare la manutenibilità la manutenibilità per me è un 8 su 10 perché perché non la potete svitare da qui non potete svitare questo almeno non mi risulta io nelle homo sapiens so che non si può fare questa parte è incollata non so se qui vi consente di svitarlo ma direi di no perché non non sporge vedete non avete la possibilità con una chiavetta di svitare questo meccanismo è proprio incollato all'interno l'unico modo per arrivare a pulire questa penna è quello di svitare il gruppo di scrittura il gruppo di scrittura è tenuto insieme da un collare che in modo del tutto simile a pelican si svita cioè afferrate la penna fate un pinch qui e ruotate e a quel punto potete accedere alla parte interna della penna e quindi anche le opere di manutenzione si fanno più difficoltose in questi casi se io volessi cospargere diciamo la guarnizione interna dello stantuffo del vacuum filler con un poco di grasso siliconico non potrei farlo perché dovrei smontare tutto il fusto e lo posso fare solo accedendo da qui con un'operazione decisamente più difficile così come secondo me un'altra opzione di miglioria potrebbe essere quella di pensare per fasce di prezzo così alte a un alimentatore in ebanite voglio dire magari non necessariamente realizzato internamente in casa visconti anche se sembrano tenerci molto a che il gruppo di scrittura sia assemblato e realizzato in casa loro però forse forse beh non lo so io sperimenterei lo dico ai signori visconti che dovessero passare di qui ovviamente non passeranno però così è una mia opinione un alimentatore in ebanite con due canali non guasterebbe secondo me sia per un flusso un po' più copioso più robusto sia per non lo so un'eleganza del passato di un materiale che ha il suo perché con gli alimentatori beh comunque signori al di là degli spunti di miglioria io a questa penna non ho saputo resistere guardate che volute cioè guardate che bella guardate anche la clip la clip è veramente ipnotica cioè non ho potuto resistere quindi grazie agli amici di buy pay shop per essermi venuti incontro e grazie assolutamente a tutti voi che avete seguito il video fin qui vi do appuntamento al prossimo video mi raccomando non perdetevi cliccate sull'icona iscrivetevi e cliccate sull'icona della campanellina in questo modo non perderete mai gli aggiornamenti dei prossimi video